Siamo di Spartito Zero, siamo Gianni e Gianna ma anche il terzo Spartito Zero che è Vincenzo, il violinista sta facendo le vacanze, sta nuotando, si sta tuffando nel mare blu e noi siamo qui a suonare al Buscadero, il prossimo anno verrà con noi, se ci invitate perché siamo bravi, non sembra bellissimo, bellissimo essere al Buscadero, grazie, buona serata e in bocca al tutto